...con la trasmissione web radio, salotto VIP, Gabriella Sassone, e invece vedo lui, Alfonso Stani! Alfonso, benvenuto. Buonasera a tutti, ma questa è una radio particolare, perché è il primo, una prima radio in Italia web, a 100 mila contatti, e il nostro programma è seguito da 5 minuti, e lei è stata una delle ospiti ricorrenti al nostro programma, quindi... Non puoi raccontare come funziona il nostro programma? Assolutamente, Gabriella, purtroppo, non è possibile essere qui, mi saluta, ti ringrazio, e quindi, avete stato anche un problema sempre a gestire il programma, per esempio, non su un cano di... Raccontati, ma chi è stato un po' di domenica? Eh, non lo sai, quanto è fungente, Gabriella Sassone, se ti deve impazzolare, rimassiona, ci sarà nessun problema, quindi... C'è un video, quindi, web, attraverso internet, se possono vedere, nel mio pubblico, attraverso la radio, insomma, è molto divertente. Daniela ha portato anche il suo cane, a rilasciare, a rilasciare, promozione per salvare anche gli animali, non si faranno solo i dosi, si faranno anche i problemi, e così via. Comunque vi ringrazio. Grazie a te, a tutti, a tutti. Hai po' la voce, come va? Non è molto dolore. Per te. Ma dire, vai, che c'è stata in lavorazione, perché è il mio amico. Allora, ecco, ecco. Allora, c'è la spazio, sono bellissime manifestazioni, perché gli hai, e poi gli eserono, io la consiglio, e allora... E poi abbiamo, dai, io sono la console, Daniela Pippa. Dai a cantare, io. Eh, non ci sento, va a cantare. Comunque grazie a tutti. Mi grazie a questo tipo di rego. E poi, se ti farai qualche domanda all'appunto, anche se non accorgere. È simpatico. Fai un'altra domanda da ospite. E' una domanda. E' una malattia nobita, ma non scusa. Cioè, è diventata volontà che è la mia del programma. Perché cantera da credere, diceva tu sei zitto, ma va a vedere. Ehm, ehm... Comunque, a donna del mio nuovo posto, io ci ho capilato, non ci sono davvero i suoi... E' un successo. 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 Alfonso Stani, Daniela Mandani e Daniela Salotto Fib. Grazie a tutti.